amici eccoci con una penna veramente accesa no vedete insomma la penna che avete già riconosciuto si presenta da sola con un nome importante quindi uscita da poco l'ami joy va bene nulla nulla di nuovo sul fronte occidentale stiamo parlando di dipende che conosciamo già bene si presenta così una cosa molto molto semplice ma stiamo parlando di penne che hanno un costo veramente irrisorio qualche decina di euro quindi però non potevo rimanere insensibile di fronte a questa colorazione così accesa e insomma anche per il rispetto che ho per queste penne particolari insomma che ci sono da tanti anni e che insomma hanno una precisione costruttiva di tutto rispetto contenendo molto il loro prezzo allora stiamo parlando appunto della lamine la sua conformazione insomma siamo abituati a vedere livret decisamente più sobile di questa ma proprio questo colore così acceso insomma secondo me farà un po' la fortuna di questa penna ha la sua conformazione il suo stile un po' a stiloforo con la prensione qua ergonomica diciamo vincolata io odio un po' queste penne che hanno quelle prensioni così che ti costringono però devo ammettere che qua è molto comoda perché la svasatura qua mi permette alle dita di non scendere verso la punta e qua sotto ecco l'errore che a volte si fa è di dare un altro un altro spigolo qua con conseguenti problemi perché magari alcuni lo trovano agevole altri decisamente no invece qua il mio dito medio si posiziona qua sotto non ha nessun problema pollice indice saldamento proprio la classica prensione a pinza quindi ho una saldezza di di scrittura veramente notevole quindi alla fine ci si fa l'abitudine lo si finisce anche per apprezzare anche se all'inizio io appunto sono sempre un po' titubante quanto vedo con le cose forzate ma in questo caso poi si entra in confortevolezza con la penna immediatamente pennino no loro lo definiscono italico io lo definirei più più uno stab no di fatti non ha degli spigoli precisissimi quindi lo definirei tranquillamente più un pennino stab c'è nelle conformazioni uno e uno classiche e queste da uno e mezzo ho preso quella più grande ma sono penini che conosciamo bene e chiaramente mi permettono di fare delle delle calligrafie delle grafie diciamo gestuali veloci rapide senza intoppi con una distribuzione dell'inchiostro lo vedete molto vedete mi segue in qualsiasi quindi veramente una penna la distribuzione dell'inchiostro insomma la sua variabilità di tratto la vediamo qua chiaramente non è un finissimo di fatti appunto vi dicevano appunto un po' arrotondata ma che permette però di utilizzarla convenientemente vedete qua la bellezza del tratto in questa l no è tutto anzi andiamo a vederlo più da vicino così ve ne faccio apprezzare ok lo vedete il pennino diciamo tronco è un po' arrotondato quindi quando siamo a livello di stab mi permette di avere veramente una ricchezza di segno notevolissima e comunque allo stesso tempo mi permette di avere delle 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 velocità no delle velocità di scrittura di tutto rispetto chiaramente nella versione 1 e 5 insomma la scrittura diventa importante un po' spessa insomma bella insomma da da insomma da da forte impatto visivo poi altra cosa chiaramente ci sono tantissime altre penne anche molto più costose belle che mi fanno poi più o meno le stesse cose anche lì cosa conviene fare beh siamo siamo al solito modello dicotomico posso andare in giro con una ferrari una mercedes con una vecchia punto con eppure viaggio uguale no? però il viaggio sì arrivo dove voglio arrivare sempre più o meno ci arrivo però con che confortevolezza con con che risultato insomma siamo sempre lì però questo è un bel modo secondo me una penna come questa è un bel modo di approcciarsi alla scrittura con una punta larga una punta tronca ok quindi senza spendere cifre folli siamo sotto i 30 euro e quindi insomma con 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 anche bellezza perché insomma io lo trovo 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 questa penna anche un bel oggetto da design quindi con questa livrea così accesa insomma sicuramente non passerai inosservata quando la tirerete fuori dalla borsa e comincerete ad usarla c'è la variabile appunto anche da 1 e 1 che consente di avere insomma una grafia un po' più diciamo elegante più più stretta più insomma più filante quindi insomma e quindi con poco ci si può dotare veramente di due belle frecce nella propria fareta e niente la prova è conclusa vi saluto e vi ringrazio come sempre ciao a tutti